ci mettiamo che scavare si appende la russa a casa e ci torniamo non lo capite io eh va bene se l'ultimo si va a mettere una telecamera e quelli che si scegliano a buttare tagli una linea della madonna no? le camera le mettono a te che vuoi sono morti la forza del Frank, guarda che roba cazzo 100 kg figa video Frank, braccia rubata e la miniera il mazzetto qua si perde comunque è che tu vuoi? se lo prendete dove ti viene a fare ahahahah madonna ci sono i cazzambini che ho portato il bambino al mercatino va che si rompe no scusa non si rompe è mica lì la fattura a fuori si si te le giro si si te le giro va bene lo hai detto cominciamo a fatturare piano piano si si come un cane si stacchiano un freddo si stacchiano un freddo si stacchiano un freddo si stacchiano un freddo figa la polvere si stacchiano i polmoni ma perché? ma lascialo lì cosa che cazzo vi volete? cosa vi devo dire? si stacchiano un freddo buon anno non lo cazzo 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 si stacchiano un freddo tira quattro madonna ostia mi è scappato grazie perché almeno non mi vanno in giri i capelli ecco dov'era il tappeto della macchina io direi di scendere è pieno di roba la valigia è un sacco la valigia a viaggiare a la terunziti andiamo giù si non andiamo a casa più dobbiamo smembrare la montagna a casa a a